Questa è semplice perché era la prima battuta che abbiamo fatto anche di lì e dopo ho fatto quella per una rifinitura. Questa è semplice. È buono non fare il male, ma è malo non fare il bene. E vabbè, chi non fa del male è bene, l'abbiamo detto con quell'altra, ma chi non fa del bene è male. Capito? Diciamo insieme, è buono non fare il male, ma è malo non fare il bene. Un'altra volta. Chi non fa del male è bene, ma chi non fa del bene è male, l'abbiamo già detto prima. Non sentitevi a posto quando non fate il male, no, non basta. Ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non lo ha fatto. E' inutile che noi troviamo uno che non fa mai del male a nessuno, ma se ti capita una persona che è caduta non mi dai una mano per rialzarla? C'è uno che ha bisogno, non so, un favore, non ti presti? A meno che non potesti, è un altro conto. Allora è male. Questo lo diceva San Alberto Urtano. Dice il Corino che non fa del male è bene, ma chi non fa del bene è male. Ecco. Dice il Corino che non fa del male è bene, ma chi non fa del male è bene. C'è uno che non fa del male è bene, ma chi non fa del male è bene.